Ah, prima di attaccare al lavoro in fumetteria farò un salto al mio negozio preferito Oh, oggi è il gran giorno Perdonami capitano, oggi devo entrare lì dentro Oh, ma guarda, anche tu qui Ciao B, sì guarda, io sono un grande fan della Lazio Mi sto avvenendo l'orticaria a stare qui No, Pedro, il mio giocatore preferito, credo che prenderà questa Anche il mio giocatore preferito Ma che è questo? Voi mettiamo il capitano Prendo questa Ok Anche io prendo questa Allora io vado, eh, ciao Ciao B, alla prossima Ecco la busta per te Non la guardo, ma io non la voglio prendere No, non la prendi, hai voluto Adesso la prendi Mi sto sentirmi male